Se sei così, ti dico sì. Sono in molti che vorrebbero dirlo di sì a Belen Rodriguez, la donna del momento. L'Argentina sta crescendo e diventa attrice perché dimostra di essere sicuramente bellissima e sexy, ma pure brava. Al fianco di Emilio Solfrizi convince nella commedia di Eugenio Cappuccio, se fai così ti dico sì, nei panni di una diva capricciosa. Ma il set le piace. A recitare è una cosa che mi dà un sacco di emozioni. E non lo so, veramente ho scoperto che il mondo del cinema è completamente un altro mondo a quello della televisione. Non è più solo la donna da copertino, la protagonista di reality e gossip con il fidanzato Fabrizio Corona. Belen è una showgirl che spazia tra tv e cinema, passando anche dalla musica. E gli impegni non finiscono qui. C'è una fiction in ballo, quindi sono molto contenta perché per me è terapeutico. Cioè io sto vivendo un momento in cui non mi riposo mai, mai, non dormo mai e lavoro sempre. Recitare, avere un copione in mano, innamorarmi di un personaggio, leggere il soggetto e cercare di, non lo so, di calarmi nella parte, cercare molto umilmente perché quando mi chiamano attrice mi viene da ridere la lucirante. Mi vergogno e quando mi vedo non mi piace mai, mai, non mi piace mai.